L'attore di cui parliamo oggi è un attore danese, incredibile, abbiamo parlato quasi sempre di attori americani, esclusa Natalina Ghettà, ma volevo far l'attore, parla di attori che hanno fatto la storia o che comunque si stanno avvicinando sempre di più a mostrare tutto quello, tutto il loro potenziale attraverso la storia contemporanea. Oggi parliamo di Mads Mikkelsen, nato a Copenhagen il 22 novembre 1965. Allora Mads Mikkelsen è sulla bocca di tutti, è stato ed è sulla bocca di tutti perché ha sostituito da poco Johnny Depp che è stato licenziato dalla Warner per la produzione del terzo capitolo della saga di Animali Fantastici e andrà a ricoprire il ruolo di Grindelwald. La scelta mi affascina, devo ammetterlo, forse mi avrebbe affascinato ancora di più fin dal principio al posto di Johnny Depp, forse per molti questa potrebbe sembrare una bestemmia, ma le interpretazioni degli antagonisti come sono fatte da Mads Mikkelsen sono eccezionali. Allora avevo parlato di lui, l'avevo citato precedentemente in uno dei primi podcast quando parlavamo di Anthony Hopkins. Anthony Hopkins mette in scena il suo Hannibal Lecter, Hannibal Lecter che è interpretato in una maniera non spalmata, cioè è all'interno di una pellicola e gli farà vincere nel silenzio degli innocenti il premio Oscar. Lui spalma il suo Hannibal Lecter in 39 episodi compresi tra il 2013 e il 2015 per una serie tv. Tra l'altro c'è anche un attore italiano che sicuramente molti ricorderanno come Don Pietro Savastano, presente, quindi fortunato Cerlino, presente anche all'interno di questa serie tv straniera. Quindi complimenti anche al nostro Made in Italy che viene esportato. E qui l'antagonismo, l'interpretazione di Mads Mikkelsen è interessantissima. Forse non possiamo paragonarla allo stesso modo rispetto a quella di Anthony Hopkins, perché come ho detto in principio, una è spalmata in 39 episodi, l'altra è secca all'interno di una pellicola cinematografica. Questa interpretazione è affascinante, bella, elegante anche. Un Hannibal Lecter elegante per un motivo ben preciso, perché da piccolo Mads Mikkelsen inizialmente non voleva fare l'attore, quindi altro che volevo fare l'attore, voleva fare il ginnasta. Cambiò idea e studiò per dieci anni a Gothenburg, quindi in Svezia, non più in Danimarca, danza accademica, dove imparò anche lo svedese. Quindi porta con sé una determinata eleganza, iniziò a studiare recitazione in una scuola danese a partire dal 1996. La sua prima produzione cinematografica è proprio in quell'anno, con Pusher, l'inizio. Ci sono tantissimi film che lui fa tra la Danimarca e gli Stati Uniti, ma il primo ricordo che ho io è in Casino Royale di Martin Campbell. Allora, Casino Royale appartiene alla saga di James Bond 007. L'interpretazione dell'antagonista, soprattutto per la plasticità con cui il viso di Mad Mikkelsen prende, coglie tutto ciò che può, tutte le emozioni che può dallo spettatore, sono veramente affascinanti. Ho un ricordo vago per una sua interpretazione nel 2004 in King Arthur, di cui non entrerò nello specifico. È stato antagonista anche di Doctor Strange nel primo e unico attualmente film sul supereroe Marvel. Anche lì l'antagonista, niente di memorabile, devo ammettere, però lui riesce a cogliere, riesce sempre a cogliere, a suscitare delle emozioni nei confronti dello spettatore. Allora, tra i lavori più importanti ricordiamo anche Paul Anderson che lo dirige nei tre moschettieri. E poi, Rogue One a Star Wars Story, anche qui. Rogue One è un film bellissimo, forse, secondo il mio punto di vista, il miglior film della saga di Star Wars, pur non facendo parte dei cosiddetti episodi, perché si colloca a cavallo tra due diversi episodi. Però l'interpretazione di Rogue One a Star Wars Story, qui vediamo dove finalmente Mad Mikkelsen non fa l'antagonista. È del 2016 questo film, non fa l'antagonista, però riesce, diciamo così, a guidare, a guidare il proprio personaggio verso la direzione corretta, senza uscire fuori dai binari. Però è interessante Mad Mikkelsen quando esce fuori dai binari, con la sua eleganza, essendo sopraffino. E attenzione, perché c'è anche un videogioco negli ultimi anni, che è uscito proprio nel 2019 o nel 2020, adesso mi sfugge, ed è Death Stranding di Hideo Kojima. Allora, recitato tutto in Motion Captured, è vero che ci sono tantissimi attori presenti nel cast, attori e doppiatori, o semplicemente l'immagine di un regista, come può essere quella di Guillermo del Toro all'interno di questo videogioco. Ma questo videogioco è una vera e propria pellicola, io non mi soffermerò a parlare del gameplay di Death Stranding. Però, ecco lì, vediamo finalmente un'interpretazione dove lui sembra essere l'antagonista, ma che poi, uscendo fuori dai binari interpretativi, e ragazzi pensate lo fa col Motion Capture. Ora, se non potete giocare il gioco, che forse non è neanche a livello di gameplay il miglior gioco del mondo, vi consiglio sinceramente di vedervi le Partied che lui interpreta. Fighissime, fighissime, fighissime. Guardatevelo, è un'interpretazione cinematografica, e questo ruolo non poteva che farlo. Mads Mikkelsen. Allora, poi l'ho visto nel film Polar, che è un po' cartunesco, fumettistico, è una produzione Netflix, se potete andarla a vedere voi. Lui ci sta bene, anche perché questo suo viso squadrato sta bene a livello anche fumettistico, quindi possiamo sicuramente tenerlo presente. Poi, a livello di produzioni, che ha fatto diverse serie tv negli anni 2000 soprattutto, sono gran parte di produzioni danesi. E' bello, ma non l'ho mai ascoltato a dirvi la verità. Ha doppiato il personaggio di Randall in Monster & Co., un personaggio molto figo, all'interno della produzione cinematografica della Disney. Monster & Co., uno dei miei film preferiti, molto probabilmente. Lui doppia danese, Randall. E io, veramente, anche se non capisco la lingua, ecco, vorrei poter sentire la sua interpretazione, perché sicuramente riesce a trasportarmi anche se io non capisco una ceppa di quello che dice. Ha lavorato a diversi cortometraggi, prima di, soprattutto nella propria patria, prima di arrivare, diciamo così, al successo hollywoodiano. Quindi, essenzialmente, quando parliamo di Matt Michelsen, ne parliamo di un attore che non è così cangiante, ma un attore che, se lo mantieni sul proprio binario, cioè deve interpretare quel personaggio in linea dritta, forse non riesce a darti il 2000%. Ma se lui può spaziare, può divertirsi, può giocare con la mimica, col suo personaggio, allora forse abbiamo trovato il nuovo antagonista perfetto dei nostri tempi. E buona fortuna per Grindelwald.